Ciao, oggi sono ospite a Infactor e sono molto felice. Sono ospite di Manuela e Maurizio che ringrazio, un'occasione fantastica, per poter sentire le mie interpretazioni vocali quando siamo felici o quando siamo tristi, quando ci presentiamo a colloqui agitati e in confusione o quando ci manca l'aria perché non abbiamo respirato correttamente. Ma cosa vuol dire tutto questo? Sì te stesso e soprattutto credi in te stesso. Pierluigi, sei un fenomeno del lavoro. Ecco Pierluigi, ospite di oggi di Infactor, ma Pierluigi tu in pratica hai sintetizzato tutti gli ospiti di Infactor, c'è quello triste, quello esaltato, quello agitato, quello permaloso, quello presuntuoso, quello timido, li hai fatti tutti. Però adesso Pierluigi è il tuo momento, presentati al pubblico di Infactor. Io sono Pierluigi Cerin, ciao a tutti, mi occupo di formazione per gli adulti e soprattutto di competenza legata alla comunicazione e nell'utilizzo della voce. Sono un cantante con preparazione classica, lirico, ma canto anche le musiche pop, sono un baritono e mi diverto a suonare diversi strumenti di musica come il basso, il pianoforte, la chitarra. Sono un po' di strumentista. Con l'avvento di internet e YouTube poi mi sono interessato anche al videomaking, ora la pazzia è arrivata anche con il filmmaking, sto girando il mio primo film, la mia prima opera, che vedremo presto su internet e spero anche al cinema, non chiedo troppo. Inoltre ho una mia piccola etichetta discografica con la quale pubblico delle musiche, visto che amo la musica da sempre e la pratico con tutto me stesso. Ma torniamo a noi, appunto, a quello che è la formazione vocale che offro durante, e inti che mi chiedono appunto nel public speaking, di svelare un po' quelli che possono essere i segreti per utilizzare al meglio la nostra voce nei vari contesti lavorativi, soprattutto a colloquio. Fantastico, questo qui. Questo è quello che ci serviva. Questo, il mago della voce, che adesso ci aiuterà. Allora, adesso approfitto subito e ti chiedo una cosa. Hai presente quando vai a colloquio? Io di solito dico, devi cercare di trasmettere la tua competenza. Quindi devi essere sicuro di quello che dici, sicuro di te, ma non troppo, non supponente. È difficile. Dacci un consiglio, come si fa? Allora, un consiglio che vi posso dare è innanzitutto di tenere una voce piuttosto istituzionale. Cosa vuol dire una voce chiara? Come sto parlando in questo momento? Cercando di non essere troppo veloce, non dire troppe parole, altrimenti potrei, oltre che incepparmi, magari perdere il filo del discorso, dire troppe cose e magari non essere essenziale. Ed essere positivo. Non posso avere un mento qui che pesa, è una bocca triste, perché altrimenti il mio suono, sentite come si chiude, diventa pesante. Un selezionatore non mi ascolta volentieri. Ma soprattutto una voce tranquilla, perché io devo cercare di trasmettervi una certa serenità. Non annoierò mai, anche se faccio una piccola pausa tra un periodo e l'altro della frase. Perché, come vedete, state ascoltando la mia voce ancora adesso. Non vi siete annoiati. E questo è uno dei trucchi che io consiglio sempre. Cioè, non correte. È normale essere un po' agitati. Siamo umani, siamo emozionati, ci manca l'aria. Respiriamo a pieni polmoni e ripartiamo, cercando di mantenere una certa tranquillità nell'esposizione che stiamo facendo. Andrà benissimo. Bellissima Pierluigi. In pratica questa non è una puntata di Infactor, è proprio un laboratorio di Infactor. E quindi ne approfittiamo. Facciamo dalla teoria alla pratica. Tu insegni nei vari corsi in un modulo che si intitola proprio La Voce. Ok? La Voce. Spesso su LinkedIn, ovviamente, perché essendo il social professionale, si parla di public speaking, parlare in pubblico. Però noi ci rivolgiamo ovviamente ad un target che magari domani non deve andare appunto sul palco del mega evento, ma deve sozionare appunto il colloquio, l'interrogazione o l'esame all'università. Siamo super preparati, quindi sappiamo tutto. Però poi, vuoi un po' il nervosismo, vuoi l'emotività, arriviamo lì e la voce ci trema. Ma cosa si può fare? Certamente. Bisognerebbe imparare innanzitutto a conoscere quali sono i nostri limiti. Se ci rendiamo conto, già prima di arrivare a colloquio, che abbiamo qualche problema con la respirazione, dovremmo fare delle cose che ci allenano a, diciamo, questa performance. Perché andare a colloquio è comunque una performance. Per noi è uno stress, per il nostro fisico è uno stress. Di conseguenza, nella tensione muscolare, respiratorie, corde vocali, sono uno stress. Questo momento, dunque, deve essere gestito prima, con un allenamento che può essere il lip roll, come facevano i bambini all'asilo, perché questo serve per sciogliere la muscolatura facciale e ci permette di essere più chiari quando parliamo. Vedete come muovo meglio le labbra? E poi questo ci permette anche di scaldare le corde vocali con una semplicità incredibile e la si utilizza ancora oggi a livello professionale, sia per persone che fanno teatro, cantanti, presentatori, proprio per preparare le corde vocali un attimo prima di andare in scena. Però anche noi dobbiamo andare in scena, è un sipario alla fine che apriamo anche durante un colloquio di lavoro, perché stiamo presentando noi con tutto il nostro, ok, bagaglio di esperienza e dobbiamo essere convincenti. Perciò meglio di quest'occasione non c'è per preparare bene la voce per essere pronti quando poi ci presentiamo a colloquio. Per cui leap roll, respirazione, però questa è una cosa un po', dovrei addentrare a delle cose tecniche forse un po' troppo difficili, ma la cosa soprattutto importante è restare tranquilli e se stessi, ok? Per cui una buona respirazione, a pieni polmoni, così quando manca il fiato fate la pausa e andate avanti, ok? Perfetto, e andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Però adesso mettiamoci dalla parte del recruiter. Sì. E sicuramente andrà tutto bene, però dovrò dare dei rispondi positivi e dei rispondi negativi. Allora, mettiamoci nei panni di questo povero recruiter che deve dire no, quindi deve dare un feedback negativo. Come fa? Con quale voce può dimostrare professionalità, ma non distanza? Con una voce istituzionale, quella che sto mantenendo anch'io adesso, perché è una voce comunque professionale, dove facciamo sentire il nostro pathos con l'altro, l'empatia con l'altra persona. Cerchiamo di mantenerla in modo tale che è un dialogo e non un qualcosa che si mette in mezzo tra di noi, ok? Che potrebbe essere una sorta di blocco emotivo e cerchiamo di questa empatia mantenerla con la voce dicendo quello che poi io devo dire per questione, ovviamente di lavoro e di non andare a prendere in giro una persona che ha colloquio. Perciò riteniamo, visto analizzato le sue competenze in base a come ha presentato la sua persona professionale, che i ruoli che noi stiamo cercando quest'oggi non sono a specchio in base a quello che lei ha presentato oggi. Per cui terremo presente per un futuro la sua candidatura, ma la invitiamo a rimanere magari in contatto con aziende come quella che ha visto di noi, insomma della nostra azienda, ma cerchiamo magari di sentirci più avanti, possiamo dire così. Oppure continui a proporre il suo CV ad altre aziende come la nostra, ce ne sono tante. Cioè ci sono molti modi per mantenere attivo l'interesse di dire alla persona che comunque è valida, però non è proprio a specchio rispetto a quello che sta cercando in quel momento il recruiter. Ok? Bello, bello, bello Pierluigi. Ti cito adesso due personaggi famosissimi, Paolo Bonolis e Maurizio Costanzo. Famosissimi, però ovviamente due modi di parlare completamente diversi. No, Bonolis è famoso per parlare a macchinetta, Costanzo, diciamolo, bravissimo, però effettivamente a volte viene anche spesso preso in giro. Per questo non si capisce qualcosina, ma è tutto naturale? Oppure anche lì un pochettino c'è la strategia proprio per restare impressi, è un po' una sorta di personal brand anche in questo caso? Sì, sicuramente c'è un personal brand perché ogni volta che noi siamo in pubblico dobbiamo cercare di portare a casa il più possibile il ricordo di noi. Per cui qualcosa che colpisca l'altro. Se abbiamo da un lato un Paolo Bonolis che è molto allenato nel correre velocemente con le parole in modo fluido, fluente, con una lingua assolutamente sicura, dall'altra parte una simpatia che comunque è data anche dalla lentezza ma dalla chiarezza di un giornalista come quello appunto di Maurizio Costanzo che nella sua tranquillità tipo effetto lumaca rispetto a Paolo Bonolis, però la lumachina ha il modo anche di seguire e magari di fare affezionare quelle persone che amano il modo di parlare più lento. Credetemi, se io sento Paolo Bonolis per troppi minuti vado in confusione perché sono troppe nozioni, perciò dobbiamo anche lì alternare, però questo è un mio modo di vedere personale. Io alternerei un po' il Bonolis con il Maurizio Costanzo, questo potrebbe essere un'ottima soluzione anche che possiamo noi mettere in pratica. Sì, ma infatti io Maurizio Costanzo lo adoro e lo ascoltavo sempre alle undici di sera perché mi tranquillizzavo e andavo a dormire, ma lo adoro veramente, mi piace tantissimo. Grazie, grazie veramente Pierluigi di quello che ci hai detto perché la voce è importantissima, è davvero importante per trasmettere anche le emozioni, per lasciare un segno. Quindi grazie per i consigli che ci hai dato e per qualsiasi dubbio ti contatteremo. Ciao! Grazie mille, ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, grazie.